nome remington compact control ipl 3500 boiler più skin pro ipl 5500 com'è il vostro look un design compatto con una forma ergonomica misuro 24 per 28 per 12 centimetri per un peso di circa 454 grammi sono molto leggera e maneggevole e sono caratterizzata da piccole dimensioni e infatti misuro 16 per 14,3 per 6,7 centimetri per un peso totale di 180 grammi descrivetevi sono dotata di una tecnologia triggerless ovvero il mio flash luminoso si attiva in automatico a contatto con la pelle senza bisogno di premere alcun pulsante la mia superficie luminosa di circa 3 centimetri quadrati e la lampada è in grado di emettere fino a 350 mila impulsi luminosi anche io funziona con il cavo sono caratterizzata dalla luce pulsata ipl che significa proprio intense pulsate light si tratta di una tecnologia utilizzata negli istituti di bellezza ma che ora è disponibile anche per uso domestico la mia superficie luminosa e di circa 3,1 centimetri quadrati ed è capace di mettere fino a 200 mila impulsi luminosi infine funziona con cavo in quali zone agite sono ideale per praticamente tutte le parti del corpo braccia gambe ascelle inguine nonché per schiena petto addome e anche per il viso anche io sono adatta a tutto il corpo ma soprattutto per le zone più delicate grazie agli impulsi luminosi delicati perfetto per bikini ascelle e viso inoltre sono unisex adatta cioè sia all'uomo che alla donna avete diversi tipi di impostazioni o modalità di trattamento o 5 impostazioni di intensità che permettono di trovare la soluzione più adatta ad ogni tipo di pelle per un risultato efficace ed un trattamento confortevole ho tre livelli di intensità diversi e in più sono dotata di modalità flash automatico che consente un utilizzo più pratico e in più dispongo del sensore per il tipo di pelle il quale valuta la pigmentazione della pelle sulla superficie da trattare prima di ogni impulso luminoso quali sono i vostri tempi di applicazione impiego circa 20 minuti per il trattamento di tutto il corpo anche io circa 20 minuti per gambe zona bikini ascelle e viso dopo quanto si iniziano a vedere i primi miglioramenti completando tre sessioni nelle sei settimane e seguendo passo passo le istruzioni dell'uso è possibile ottenere fino al 92 per cento di riduzione dei peli già dopo tre o quattro trattamenti compaiono fino al 50 per cento dei peli in meno un vostro punto di forza le mie piccole dimensioni in confezione trovate un elegante custodia in cui ripormi in modo sicuro un vostro punto debole la mia lampada non è sostituibile e quindi una volta esauriti gli impulsi a disposizione è necessario acquistare un nuovo epilatore già neanche la mia sostituibile chi costa di più lei io ma non di molto mandate un messaggio al nostro pubblico potete trovare entrambi su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione se non l'avete ancora fatto vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale youtube mettere un mi piace alla pagina facebook e a seguirci su instagram mi raccomando attivate la campanellina per non perdervi nemmeno un nostro video salutate ciao